Partiamo da LCA Studio Legale, di cosa si occupa? Allora, LCA Studio Legale è uno studio che vanta 20 anni di vita, infatti quest'anno festeggiamo proprio il ventennale, è uno studio legale indipendente a vocazione internazionale, siamo più di 250 professionisti con sede a Milano, Roma, Genova, Treviso tra l'altro, quindi qua vicino, Belgio, Bruxelles e Dubai. Noi da sempre siamo uno studio molto vicino alla realtà delle PMI, che assistiamo da tutti punti di vista, quindi per quanto riguarda tutte le varie competenze e aspetti del diritto. Sicuramente da sempre ci consideriamo uno studio vicino alle esigenze delle PMI, quindi dei partner in tutti i sensi, quindi non solo i classici avvocati che vengono chiamati per risolvere problemi, ma anche a supportare gli imprenditori nelle loro progetti di crescita. Quindi spesso veniamo coinvolto chiaramente in operazioni straordinarie, quali anche per esempio la raccolta di capitali a supporto delle strategie della società. Raccolta di capitali che significa ovviamente non il canale tradizionale bancario, ma operazioni quali per esempio l'investimento di partner industriali o di fondi di private equity, le emissioni di presidi obbligazionari e in particolare anche la quotazione in borsa. Lei appunto ha parlato di quotazione in borsa, quali sono le opportunità della quotazione per una PMI? Allora, la quotazione è sicuramente prima di tutto uno strumento per la raccolta di risorse finanziarie, infatti il processo di quotazione si associa sempre a una fase di collocamento, quindi la possibilità per una società di accedere a una finanza straordinaria e diversificare di conseguenza anche le fonti di finanziamento. Di conseguenza c'è anche l'apertura del proprio capitale a nuovi investitori, questo può portare sicuramente dei vantaggi perché il mercato dei capitali sostanzialmente è un partner che poi accompagnerà per tutto il resto della vita della PMI, chiaramente può essere sollecitato anche ulteriormente nel corso della vita ogni volta che la società ha un progetto che vuole supportare. In più parliamo in questo caso, mi riferisco sicuramente all'Euronext Growth Milan che è un mercato proprio dedicato per le PMI, quindi società ad alto potenziale di crescita, che ha dei vantaggi sicuramente in termini di requisiti di accesso che sono inferiori e minimi in termini di flottante, non ci sono requisiti di capitalizzazione ed è sufficiente avere un primo bilancio certificato. In più anche gli adempimenti e gli oneri per il mantenimento dello status di quotata sono sicuramente leggeri rispetto a quello che è il mercato regolamentato, quindi pochi oneri diciamo leggeri oneri informativi, adempimenti regolamentari sicuramente facilitati e tutto questo invece è premiato da una grande visibilità e una credibilità maggiore rispetto al mercato che permette poi alle PMI spesso di poter intercettare opportunità di crescita ulteriori rispetto a quelle se rimanesse una società chiusa. Grazie per la visione!